Non so quante generazioni dovranno passare prima che l'Italia diventi o ritorni ad essere un paese normale, perché capita addirittura che tu denunci qualche incongruenza dei comportamenti strani, per non dire sbagliati, che il destinatario di queste tue lagnanze si meraviglia, cade dal pero come se tu lo avessi accusato di chissà che, tranne accorgersi che molto probabilmente, anzi probabilmente i suoi comportamenti sono stati da ignorante, da maleducato, per dire poco, oppure da persona che ormai dà per scontato che ognuno fa i cavoli suoi. Grazie Grazie Grazie